Il 2018 si è concluso con un problema per quello che riguarda la gestione dei rifiuti legato al blocco dell'Ostir, il 2019 come si sta presentando? Diciamo che si è concluso già il 2018, sono già un fatto positivo e ce ne siamo usciti già con le ossa in buone condizioni. Il problema dell'Ostir è un problema abbastanza serio che ovviamente è collegato anche a vicende extraurbane rispetto all'Ostir, quindi parliamo di Acerra, ed è la grande partita dell'indifferenziato. Alla fine l'Ostir avrebbe meno ragione di funzionare se facessimo funzionare un po' tutti quanti meglio la raccolta differenziata, quindi producendo meno indifferenziato, perché nell'indifferenziato continua a esserci troppa roba invece che si poteva differenziare tranquillamente. Questo come dato di cronaca, come fatto dal punto di vista tecnico, noi per il momento siamo organizzati abbastanza bene, Salerno Pulita mi risulta e mi ha dato contezza di aver già individuato piattaforme alternative per i momenti di maggior necessità, pare che stiano facendo delle gare europee per lo smaltimento della frazione indifferenziata, insomma per il momento le cose sono sotto controllo. È evidente che la partita rifiuti in generale ha sempre questa vis emergenziale, pare che ogni giorno siamo sempre sul chivalà per salvarci da chissà quale difficoltà temporanea. Io penso che davvero è il momento di invertire la tendenza, di ritornare fortissimamente nelle case con la differenziata, di cercare di arrivare a questa verità utopistica per alcuni, sarebbe davvero un mondo migliore, di rifiuti zero, perché se ci riusciamo insomma, è riciclare, rimettere tutto in sesso e soprattutto avere più cura delle proprie città, avere più pazienza nel fare la raccolta differenziata. Io ritengo i giorni in cui raccogliamo, ferme restando le segnalazioni e le difficoltà, perché esistono per l'amore di Dima, se dicessimo che siamo perfetti saremmo dei folli, su questo non c'è proprio dubbio, ci sono delle difficoltà. Però se ognuno avesse la pazienza per esempio di conservare l'umido a casa, perché passiamo tre volte a settimana, non un giorno, tre volte a settimana, allora perché vorrei chiedere alla signora del quarto piano a portare quella maledetta busta nel cestino della spazzatura, per esempio a Via Mercanti, è necessario, perché non te la tieni a casa, visto che domani sera la veniamo a prendere, insomma voglio dire. Questo è un segnale di... E per questo stiamo ripartendo dai ragazzi, dalle scuole, insomma, perché nelle scuole poi le ragazze troviamo grande entusiasmo e grande voglia, insomma, di avere quello che per loro è un mondo migliore, per noi sembra una parola scontata, invece secondo me la partita vera è quella là. Ovviamente ragioniamo con gli impianti che abbiamo, io ricordo a me stesso che noi abbiamo anche un impianto, insomma, di elevatissimo livello e di avanguardia per quanto riguarda, va raccolto indifferenziato a Salerno Staglio, inaugurato 8-9 mesi fa, che ci consente comunque, come dire, una transizione dell'indifferenziato abbastanza sostanziosa e consistente, quindi voglio dire, per ora siamo sotto controllo. Il problema serio è che dobbiamo fare meglio la differenziata. Il problema dell'indifferenziato è tutto quanto là. Alcuni piccoli comuni della provincia di Salerno, i cittadini hanno lamentato un mancato ritiro da parte delle società di volta in volta coinvolte. Questo rischio, ovviamente, ha visati, nel senso, era stato detto loro, abbiamo problemi nel ritiro per questa ragione, non ritireremo oggi l'indifferenziato. È un rischio che al momento i cittadini di Salerno non corrono. È una paura che abbiamo avuto qualche volta. Al momento, per quanto mi costa, abbiamo qualche ritardo nelle ore, probabilmente. Casomai passiamo il pomeriggio invece che la mattina, o passiamo col camion storto invece che con quello dritto, insomma. Per il resto, insomma, sì, abbiamo avuto anche noi camion pieni. È successo anche noi. Abbiamo avuto anche noi problemi con la piattaforma di Ostaglio, però per il momento, insomma, ce la siamo cavata. Anche perché poi, io ricordo a me stesso, che la partita dei rifiuti è anche una partita molto delicata dal punto di vista delle normative. Quindi devi stare sempre, non con due piedi in una scarpa, con due piedi in mezza scarpa, perché rischi sempre, insomma, di andare fuori da quello che è il seminato. Normative di riferimento assoluto drastiche e da ottemperare senza alcun tipo di dubbio, né tantomeno di accavallamento anche di situazioni. Quindi, voglio dire, dobbiamo stare molto, molto, molto attenti. Noi per il momento, insomma, voglio dire, mi sembra che fino ad oggi ce la siamo cavata discretamente. Noi, se qualche problema abbiamo nella nostra città, oltre a qualche ritardo nel ritiro qualche volta, insomma, mi pare che sotto questo punto di vista non ci siano mai stati psicodrammi collettivi, noi abbiamo qualche problema nello spazzamento, insomma. Questo è l'unico problema che davvero abbiamo ed è l'ultimo problema che dobbiamo risolvere. Poi, con l'impianto di Ostaglio e con il sito di compostaggio, che ormai è pronto a funzionare come dovrebbe, già stiamo facendo le prove del caso, quindi già stiamo conferendo qualcosa per mettere a giro tecnicamente i macchinari, penso che ce la facciamo. Ostaglio sta funzionando benissimo. Il compostaggio, noi stiamo facendo le prove non soltanto bagliando il funzionamento dei macchinari che abbiamo sostituito dopo quella famosa chiusura per la quale ci sono stati tutti i ritardi che voi conoscete per l'apertura. E anche sul tema ritardi, così vi risparmio la domanda, i ritardi ci sono stati, questa mi sembra come la storia della Rechi, che i lavori che non cominciano, insomma. Noi facciamo quello che possiamo e non ci nascondiamo dietro nulla. Se fosse stato per chi vi sta parlando avrei messo di persone i sedoni nella Rechi, uno a uno le avrei avvitate otto mesi fa e avrei messo a posto l'impianto di compostaggio se avessi avuto la capacità. Si fanno le gare, le gare europee, ci sono i termini, ci sono i ricorsi, le impugnazioni, i termini per le impugnazioni, ci sono i controlli, passo da una cosa all'altra, per esempio le ultime due gare della Rechi erano soggette ai controlli dell'ANAC, che insomma non vi sfuggirà, ci sono delle normative assolutamente chiare a cui riferirsi. Quindi è evidente che noi le cose le facciamo, che poi alla fine le facciamo. Ci mettiamo un po' di tempo in più perché talvolta noi siamo massacrati da una cosa estremamente seria che restringe la fattività degli italiani che si chiama burocrazia, che talvolta è talmente pesante da farti passare la voglia di fare le cose, però a noi non ci riesce. Quindi voglio dire, il compostaggio sta ripartendo, c'era un problema anche sullo strumento che sostanzialmente dovrebbe tagliare meglio le buste, perché una delle maggiori preoccupazioni che noi avevamo in relazione anche all'impurità dell'organico derivava proprio dalle buste nelle quali l'organico stesso era infilato. E poi probabilmente anche sotto questo punto di vista dobbiamo anche fare un ragionamento su dove mettere l'organico. Abbiamo fatto degli esperimenti in città con dei sacchetti che pare che ai cittadini non sono piaciuti. Anche sotto questo, voi mi dice, ci vuole una pazienza biblica perché poi porti una novità e pare che non sia la più gradita. Si stava meglio quando si stava peggio. Allora riparti, insomma. Però ci siamo, anche con il compostaggio ci siamo.